Nei nostri studi abbiamo la dottoressa Alessandra Bichi che è endoscopista dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Con lei parliamo di colonoscopia. Che cos'è la colonoscopia, quali sono i sintomi per cui è necessario effettuarla? La colonoscopia è un esame diagnostico che si utilizza per studiare, per vedere il grosso intestino e il colon. Quindi è un esame che consente di poter valutare se ci sono alterazioni di qualunque tipo a carico del grosso intestino. È un esame che odernamente si fa di routine, nonostante sia un esame invasivo in genere ben tollerato e le indicazioni per la quale si effettua sono molteplici, consentendo di vedere direttamente la parete dell'intestino, consente di valutare stati infiammatori, la presenza di polipi, di lesioni tumorali. Quindi è un esame essenziale per la diagnosi e anche per il trattamento di molteplici patologie. L'esame si svolge attraverso l'utilizzo di un endoscopio. L'esame attualmente non è doloroso perché in genere viene effettuato assieme ad una sedazione farmacologica che lo rende ben tollerabile. Ci possono essere piccoli fastidi tipo la sensazione di gonfiore, di tensione addominale, però in genere è ben tollerato. L'importanza dello screening del colon retto a che rivolto e in cosa consiste? Allora i programmi di screening sono tutti di fondamentale importanza perché in generale consentono di scoprire precocemente delle malattie e quindi aumentano la possibilità di trattarle in stadi molto iniziali per cui si ottiene la guarigione. Lo screening del colon retto rientra tra queste procedure. Il nostro screening regionale ha rivolto a tutte le persone con un'età compresa tra i 50 e i 69 anni. È una procedura assolutamente gratuita. Il partecipare allo screening può veramente salvare la vita.